Silvio Berlusconi situazione economica, a quanto ammonta il suo enorme patrimonio. È arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi, ufficializzata dopo molte indiscrezioni in seguito al suo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Erano stati riscontrati dei valori alterati legati alla leucemia di cui soffriva, e purtroppo la situazione non è rientrata. I figli si sono riuniti all'ospedale ed è arrivata poi la notizia, dell'addio dell'ex premier ed imprenditore, volto famosissimo in Italia ed anche all'estero. Ora in tanti si chiedono a quanto ammonta il suo patrimonio, in vista della suddivisione che dovrà inevitabilmente esserci. Anche se non si conoscono le cifre esatte, ciò che è certo è che Berlusconi era stato inserito, nella lista dei miliardari d'Italia da Forbes, nello specifico al terzo posto. Solo nel 2021, d'altronde, Fininvest aveva dichiarato un fatturato pari a quasi 4 milioni di euro. Inoltre fino al 2017, Berlusconi è stato proprietario del Milan, esperienza che gli ha sempre dato delle grandi soddisfazioni, e di cui lui ha sempre parlato con entusiasmo. Nel 2017, la squadra venne ceduta per 740 milioni di euro, al netto di un debito di 220 milioni, e questa cifra andò ad aggiungersi al patrimonio già molto ingente della famiglia Berlusconi. Il patrimonio totale in termini di denaro dovrebbe ammontare a circa 7 miliardi di dollari, secondo quanto è stato stimato da Forbes, ma appunto bisogna considerare anche le sue aziende e le attività. Silvio Berlusconi, il suo patrimonio immobiliare. Fino al 2020, il patrimonio mobiliare e immobiliare di Silvio Berlusconi è rimasto immutato, e si va sicuramente ad aggiungere a tutto il resto. Tra le abitazioni, nel 2021 è rientrata nella dichiarazione dei redditi dell'ex premier, la Villa Maria di Rogoredo di Castelnuovo, una casa ad Arcore. Poi ci sono le altre sue abitazioni, alcune di queste di sua proprietà da ormai molto tempo. Nel patrimonio c'è anche da aggiungere un Audi A6, e tre imbarcazioni di extra lusso. Si tratta della San Maurizio comprata nel 1977, il Magnum 70 comprata nel 1990, ed infine la Principessa Vai Via, una barca a vela di lusso. Nel corso del tempo i suoi guadagni derivati dalla politica sono oscillati. Per esempio, durante il governo Draghi, Berlusconi ha dichiarato cifre molto alte, invece durante il governo Conte ci sono stati dei tagli agli stipendi, di cui lui stesso ha risentito. Si tratta sicuramente di un patrimonio davvero enorme, che lo ha reso il terzo uomo più ricco d'Italia. Ora tocca ai figli e agli altri destinatari dell'eredità alla gestione del patrimonio. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate tutti questi dettagli sul patrimonio di Silvio Berlusconi, e sapevate di tutte queste ricchezze? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!